Io non ho fatto un pezzo a te, dove andiamo? Un pezzo a te. Marcati. Tito gli occhi, cantando, un pezzo a te. Che avete messo? Come stai? Un pezzo a te. Dove andiamo? Un pezzo a te. Ma sono stato lì, e per te, un pezzo a te. Un attimo. Un attimo. Un mezzo a te. Guarda questo video. Questa ragazza qui si mette a cantare. Un attimo. E poi mi sono stata convinta, fra il mezzo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. E ci sono stata tranquilla. Guardate come se fosse un microfono. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. La 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 la... 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 Adesso vi faccio sentire Angelo... E' pieno all'occhio da mezzo... Ma magari stavamo tutti nella finestra... Attento, attento... Adesso...